Ragazzi sono MarioA96 e benvenuti in questissimo video, raga oggi altro episodio della serie in quale, o meglio, riconosci in quale regione d'Italia ci troviamo quindi subito un bel like, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, mi raccomando raga e andiamo dentro con il video, sono 5 round, quindi start game andiamo in single player e quindi andiamo con il primo round di questo video allora ragazzi, voi intanto scrivete sotto nei commenti quante ne indovinate, mi raccomando allora, 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 intanto siamo in mezzo alla campagna e dobbiamo trovare qualche cartello per orientarci un po', se no diventa molto molto, comunque se non vi siete visti i video di questa serie cioè c'è una playlist nel canale, se volete da ginocchiata allora, vediamo un po', mmm ah, vedendo da così ma non voglio, non voglio dire nulla, sinceramente, perché non ho le idee molto chiare questo è Napoli, eh sì che poi che poi, quindi campagna, Napoli, Sapa Vesuviana che poi io andrei visto qui se non sbaglio, eh il Vesuvio se non erro, eh l'avevo vista da qualche... eccolo qua qui dietro questo è Napoli eh sì no, voglio cercare andiamo che poi, raga, teoricamente questo dovrebbe essere il Vesuvio questo qua non lo so vabbè, scrivono sotto nei commenti allora quindi Napoli Campania eccolo qua Napoli e... tipo qui 14 km andiamo precisamente a Montagnola ok raga, 4500 punti andiamo avanti con il secondo round secondo round anche questo dovrebbe essere Sud Italia 100-100 secondo me qui cosa c'è? Il mare allora, raga io ho due ho due idee diciamo ho due regioni mi sono andato in mente guardando un po' bene intanto il paesino qui vedendo un po' il traditorio allora o la Puglia mi sembra tanto di Puglia oppure Calabria questo mi sembra due cose vediamo un po' se troviamo qualche cartello per leggere un po' e orientarci vediamo un po' ok vediamo se troviamo qualche cartello qui dovrebbe esserci vediamo eh sì allora parco archeologico Castiglione di Paludi vediamo questo qui c'è un altro cartello un altro allora parco archeologico Castiglione di Paludi Corigliano ma questo è Calabria raga Paludi dovrebbe essere in Calabria anche Corigliano sì se non erro sì comunque dai allora però non so se in 1002 va bene a noi ci interessa la regione ci interessa quindi diciamo che la Calabria inizia da qui e non lo so vabbè tipo mettiamoci qua vediamo eh sì proprio così perché il confine è qui ok quindi questa è la Calabria quindi raga secondo round GG ora terzo round questa è l'autostrada no 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 non è l'autostrada perché no allora 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 vediamo terzo round vediamo un po' qui cosa dice Grosseto Roma Livorno e quindi Grosseto Toscana qui ci troviamo in Toscana sicurissimo credo sì invece c'è anche un po' intorno ma al solito ok dai qui è Toscana Rosseto è qui e tipo qua vediamo 16 km ok ok raga quindi anche il terzo round è andato Toscana bello intanto qui qui siamo in città e però non so sinceramente dove unione sarda l'unione sarda scusate potrebbe essere Sardegna però non lo so vediamo non lo so raga io la butto là siamo in Sardegna e siamo a Cagliari così non lo so mi è venuto questo questo a intuito così siamo in Sardegna e siamo a Cagliari vediamo se se ho ragione intanto fatemi trovare un un qualcosa per orientarmi allora dunque no e mi sa raga che mi sa che la mia intuizione mi sa che è corretta mi sa che proprio Cagliari c'entra mi sa che siamo proprio a Cagliari quindi ci sta Marijuan ne sa allora Cagliari 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 ecco qua vediamo 2 km 100 metri mamma mia ragazzi mamma mia e andiamo con ultimo round di questo video e andiamo alla grande proprio allora intanto un attimo però allora il paesaggio non mi dice nulla di chi cioè nel senso non non mi da nessuna intuizione così nessun input ecco cosa volevo dire no intuizione nessun input vediamo qua San Donato Milanese quindi lo Lombardia San Donato Milanese Lombardia sì andiamoci anche a accedere anche un po' intorno come al solito ok dai Lombardia vediamo però non so il paesaggio San Giovanni Milanese e vabbè comunque dai dovrebbe essere per qua vediamo un po' 3 km eccolo qua no qui sono milanesi comunque nei toni di Milano con le porte di Milano comunque raga per questo video può essere tutto andiamo a guardare il sommario abbiamo fatto 21.980 punti altronde quindi abbiamo azzeccato la Campania Napoli poi la Calabria poi raga abbiamo azzeccato la Grosseto quindi la Toscana Milano e infine la Sardegna quindi raga per questo video vi è stato tutto subito un bel like sul canale iscrivetevi sotto nei commenti iscrivetevi sotto nei commenti quante ne avete riconosciute la manzo è tutto bella grazie a tutti grazie a tutti